La ricetta del guacamole è semplice e veloce. Avete bisogno di avocado maturo, succo di lime, cipolla, peperoncino, coriandolo, sale e pomodorini. Iniziate schiacciando l'avocado in una ciotola e aggiungendo il succo di lime. Il passo successivo consiste nell'aggiungere la cipolla tritata, il peperoncino e il coriandolo. Mescolate bene tutti gli ingredienti e aggiungete un pizzico di sale. Per finire, aggiungete i pomodorini tagliati a pezzetti e avrete il vostro guacamole.